nel 1995 non c'erano strumenti era tutto cartaceo e le firme si raccoglievano naturalmente su un registro il modello 28 che oggi è tutto digitalizzato portalettere sempre più digitali per consegne puntuali e veloci siamo qui nel centro di distribuzione di como gallio per scoprire le funzionalità i vantaggi dei nuovi palmari scopriamoli insieme e poste italiane ha seguito il nuovo mercato sia adeguato ai tempi questi sono i palmari di ultima generazione che accompagnano il lavoro del portalettere durante tutta la giornata usciamo dal centro di distribuzione con posta e raccomandate e iniziamo il nostro percorso la nostra zona quindi consegnando con i prodotti a firma quindi le raccomandate e con i nuovi palmare abbiamo la possibilità anche di acquise di raccogliere la firma digitale a palmare e di effettuare i pagamenti anche tramite posta quindi appoggiando semplicemente la carta di credito o il cellulare avviene il pagamento e una volta terminato il giro in città si rientra nel centro di distribuzione per l'ultima fase quando rientriamo in ufficio dobbiamo ritracciare nuovamente i prodotti che non sono stati consegnati e il palmare poi produce quello che si chiama bilancino con l'elenco di tutti i prodotti consegnati e non consegnati o inesitati grazie a tutti grazie a tutti